La Lega Lanciano intende con spirito di collaborazione e senso di responsabilità offrire il proprio contributo e le proprie idee a questa amministrazione. Abbiamo redatto un elenco di otto proposte al sindaco Mario Pupillo. Abbiamo lavorato insieme tutto il gruppo Lega, dove erano presenti anche l'assessore Campitelli e il consigliere Di Naccio, per cercare di individuare otto punti fondamentali che servono per far ripartire immediatamente l'economia di questa città. Cerchiamo di lanciare questo messaggio a questa amministrazione, di cercare di aprire un confronto con un tavolo tecnico sia con i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di minoranza e le associazioni di categorie, per cercare di capire e individuare subito quali sono le esigenze da poter affrontare. Ovviamente ci sono tantissimi punti da dover risolvere. Fondamentalmente il concetto nostro è quello di metterci a disposizione di questa amministrazione. Invitiamo il sindaco Mario Pupillo a fare portavoce a tutta la sua maggioranza di cominciare a costruire un rapporto di dialogo, un rapporto costruttivo, un rapporto propositivo per poter affrontare tutti insieme i vari problemi che avremo a breve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.